no 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 basta 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 aspetta 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 come è? no 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 ah come va ancora? li stai da circolarvi? che figa porca è vero? che cazzo ero lì? ma se è troppo lento arrivo eh si si che ciollo cosa mi conviene devo far guadagnare un po' di soldi a zampi facendo un po' di like me la gioco così oggi ce la faccio la faccio così ci facciamo prima ci fa faticare frizione frizione tira frizione lascia 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 adesso mica la riesci a partire da qua appunto vuoi partire da qua no? eh no perchè no? però se non metti niente neanche il coso con quello proprio non parte anche la moto stavo facendo come te io salto qua al treno di quella roba là ecco adesso accendilo ci da una mano ma secondo me si riesce anche partendo da ferro gli occhiali cos'è che hai perso? gli occhiali tengo io boh possiamo scendere di là che andiamo a rompone non 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 non